Come si sono conosciuti Belen e Antonino Spinalbese? Ve lo sveliamo nel nostro articolo, leggete i dettagli. I flirt di Belen continuano ad attirare tutta l'attenzione in questa estate un po' anomala, la nuova frequentazione con Antonino Spinalbese è tenuta sott'occhio da tutti i fan del gossip e ovviamente della showgirl argentina Ma come si sono conosciuti? Leggi anche, Belen e Antonino Spinalbese stanno insieme, la ex di lui conferma come si sono conosciuti Belen e Antonino La bella argentina è partita per le sue vacanze rilassanti a Ibiza, ma non prima di modificare un pochino il colore dei suoi capelli Sembrerebbe però che il suo parrucchiere di fiducia, che la segue da diverso tempo, non fosse presente nel salone e per questo motivo la fedele amica della conduttrice, Patrizia Griffini, ha deciso di chiamare Marco, collaboratore di una celebre catena di parrucchieri in Italia Appena arrivato è risultato subito non essere solo, bensì accompagnato da Antonino che si è preso cura dei capelli della showgirl conquistando anche il suo cuore Il secondo appuntamento alle chiacchiere di quel pomeriggio sono state così piacevoli che l'incontro si è protratto oltre, la showgirl argentina ha invitato Antonino a cena a casa sua, ordinando del sushi Da quella sera, quindi, è ufficialmente iniziato il corteggiamento del parrucchiere nei confronti della mamma di Santiano Questo vorrebbe dire che l'infatuazione della showgirl nei confronti del care stylist risalirebbe a prima di partire per la Spagna e quindi mentre era in corso il suo flirt con Gianmari Antonolfi, scaricato poi senza pietà poco dopo Inoltre sembra che il nuovo amore di Belen abbia il benestare del suo migliore amico, Mattia Ferrari È finalmente tornato il sorriso sul volto della sorella di Cei Chu? Grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao